Il pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara raddoppia, partiranno a breve i lavori di ristrutturazione, ampliamento dopo l'ok votato ad ampia maggioranza in Consiglio Comunale. Vice sindaco Blasioli, una bella notizia per tutti gli utenti. Una bella notizia che è stata resa possibile proprio dal voto a larga maggioranza di tutto il Consiglio Comunale. Questo significherà che il pronto soccorso di Pescara diventa il pronto soccorso più grande d'Abruzzo e tra i più grandi d'Italia. Un pronto soccorso che può ospitare quindi con comodità pazienti, anziani, adulti e bambini in maniera separata tra loro e tante altre strutture. Tra l'altro anche l'eliminazione di un record in negativo che aveva l'attuale pronto soccorso, quello che le ambulanze entrano ed escono in retromarcia. Insomma, tanto lavoro che adesso inizierà. Il permesso e il rilascio verrà eseguito appunto questa settimana. Quattro mesi di tempo per eseguire questo lavoro. Il manager dell'Asl, Armando Mancini, con cui mi sono sentito qualche giorno fa e che ringrazio naturalmente per la collaborazione che è pronta a far iniziare questi lavori. È una struttura che sicuramente caratterizzerà tutta l'impresa sanitaria della nostra regione. Ci sarà poi una rivoluzione del traffico proprio attorno al nuovo ospedale? Sì, questo stiamo concordando adesso con i tecnici del comune, con la direzione generale dell'Asl, perché il pronto soccorso che raddoppierà negli spazi, si entrerà con le ambulanze da una parte e si uscirà dall'altra. Questo significa che bisognerà modificare la viabilità tra via Montefaito e via Fonte Romana, che è già molto complicata di per sé. E stiamo cercando di realizzare, di progettare adesso una rotatoria concordando appunto con il vertice dell'Asl, il modo migliore per allocarla sul territorio. Grazie.